Abbiamo parlato nel recente passato della brillante iniziativa della BCC dei Castelli di Mazzarino nel creare una fondazione finanziata dalla stessa e non solo per sostenere le iniziative mirate allo sviluppo locale. Iniziativa lodevolissima che anche le altre BCC dovrebbero prendere subito anziché lasciarsi guidare dai capigruppo nazionali che utilizzano gli utili per altre penalità che non siano locali. Sono già diverse le iniziative finanziate dalla BCC dei Castelli di Mazzarino. Oggi vogliamo comunicare la brillante idea di alcuni giovani mazzerenesi operanti nel campo dell'informatica che è stata finanziata concretamente dalla fondazione e che ha come obiettivo a breve termine quello di creare un campus di eccellenza digitale. Si tratta di operare in uno spazio di 4.000 metri quadri messo a disposizione dalla BCC per realizzare un campus di eccellenza informatica che coinvolgerà le nuove generazioni di mazzorinese e non solo nei vari settori dell'informatica specializzandole affinché possano conquistare le nuove frontiere della digitalizzazione della società. Il presidente Lino Siciliano felice dichiara che il merito, le capacità e la voglia di fare crescere il territorio sono ciò che fa di questi giovani il capitale umano su cui la nostra fondazione vuole investire. È un'opportunità senza precedenti per la comunità di Mazzarino, continua Lino Siciliano. Credo che rappresenti un sogno per tutta la città che la fondazione vuole incentivare. Insomma nel solco dello statuto della fondazione si muovono i sogni e le speranze di Mazzarino. Queste sono le cose da fare e fare subito. Questo vuol dire fare banca bene. Questo è il senso del dovere del proprio Stato quando si dirige una banca perché da tutte queste iniziative verrà fuori quella che aiuterà la collettività tutta mediante lo sviluppo economico che creerà e allora ne sarà valsa la pena aver utilizzato quella BCC anziché un altro istituto bangario perché per questo è nata per dare aiuto al territorio e a coloro che lo abitano che sono persone che hanno un cuore e una famiglia. Seguiamo con grande attenzione la fondazione della BCC dei Castelli e nel frattempo siamo in attesa di vedere se altri fanno altrettanto perché come dimostrato si può fare per il bene della collettività.